L'adesione del Comune di Brindisi attraverso un deliberato del Consiglio Comunale alla rottamazione prevista per i tributi locali è stata accolta con favore da migliaia di cittadini che hanno in piedi contenziosi con la pubblica amministrazione o che semplicemente hanno dimenticato di pagare qualche contravenzione riferita molti anni fa. In una prima fase l'ente locale brindisino non aveva potuto aderire a questa opportunità offerta dal Governo in quanto la concessionaria della riscossione dei tributi era una società privata differente dall'Agenzia delle Entrate. Adesso invece questa opportunità è stata offerta anche ai Comuni che hanno fatto scelte differenti per individuare il concessionario. Ovviamente la delibera di Giunta e poi quella del Consiglio non bastano risolvere il problema, il Comune dovrà attrezzare i propri uffici affinché sia facilitato l'accesso ai cittadini che vorranno compiere una verifica della propria posizione nei confronti dell'ente. Lo Stato permette di effettuare tale verifica direttamente online ma sarà quasi impossibile per il Comune inserire tutti i dati e permettere la stessa cosa a livello locale. Dopodiché il pagamento potrà essere effettuato anche online o presso le banche ma nella prima fase bisognerà sottoporsi a un contatto personale con gli uffici. Un motivo in più perché a Palazzo di Città ci si attrezzi per tempo in maniera tale da andare incontro ai bisogni dei cittadini e soprattutto per evitare che l'accesso alla rottomazione si trasformi in un incubo per chi deciderà di aderire. Le premesse e la buona volontà ci sono tutte ma bisognerà trasformarle in fatti concreti. Grazie.